Di fronte agli aspetti modernissimi, conserva nell'interno tradizioni secolari. Nel cosiddetto capo di Sussari, stesa su colli bassi in vista del mare, circondata di orti, vigne e uliveti, essa ha mille anni di vita civile. Ma dei suoi costumi antichi ben poco è rimasto, lo spirito, il dialetto e le tradizioni religiose. Qui siamo nella via Insinuazione a Sussari, stiamo percorrendo quella via che per tante volte ha percorso il povero Pietro Esperso, la cui famiglia abitava proprio qua, al numero 8 di via Insinuazione. La moglie, Teresina Figari, sassarese, figlia di Giuseppe e di Cristina Tealdi, hanno abitato per tanti anni qui. Qui c'era la famiglia proprio della Esperso, nobile d'animo, nobile di cuore. Vicenzo Luigi e Lucia Pinna, genitori di Pietro, ebbero anche altri figli oltre che a Pietro Esperso. E per la precisione, Luigia, Felicita, Agnesina, Gediut, Alfredo, Margherita, Ignazio, Teresa e poi Pietro, appunto, quello di cui stiamo parlando in questo momento. Questo è il palazzo dove appunto abitava la famiglia Esperso, che dava poi da via Insinuazione a Sassari sulla parallela che è appunto su via Esperso. Qui alle mie spalle c'è la porta d'ingresso del palazzo della famiglia Esperso, di cui parlavamo poco fa. E qui suppongo dove oggi c'è una sala cinesca, ci fosse il portale d'ingresso del gredino dove mettevano la carrozza con il cavallo. Ovviamente Sassari non conosce tanto la famiglia Esperso perché tutto sommato ci fu una politica del tempo che tentava di oscurare, di obbligare qua della famiglia Esperso in quanto era manifestamente antisabauda. Per cui sicuramente ha avuto tante di quelle controversie e di quegli ostacoli che non consentirono appunto di mettere in luce il valore vero di questa famiglia. Nel 1917, il mese di marzo, si spegneva il nobel uomo direi, il commendatore, avvocato, professor Pietro Esperso, professore di diritto internazionale, di nobile famiglia, discendenza francese, il consulato francese, ma ormai sassarese come direbbero oggi in Ciavi. Lasciò tutti i suoi beni, anche sul consiglio del fratello già morto Ignazio, magistrato che viveva a Ginevra, lasciò tutti i suoi beni non avendo eredi all'ospedale civile di Sassari, terreni, casa, palazzi, cedole, obbligazioni, tutto ciò che aveva all'ospedale civile di Sassari, a condizione che costruisse all'ospedale un sanatorio per i poveri tubercolosi di Sassari. La sua morte fu solennemente commemorata riunendo il consiglio comunale d'urgenza. Il 12 marzo del 1917, alla loro sindaco, l'ottor Lavagna, riunì il consiglio comunale d'urgenza per commemorare ufficialmente e solennemente la figura di questo nobel uomo che l'ha dato lustro a Sassari, all'università di Sassari e alla Sardegna. Il lascito appunto fu poi in seguito rinunciato dall'ospedale civile di Sassari perché non ce la faceva, non so per quali motivi, a spendere altre cose, per cui rinunciò a tutto il lascito del professore Esperso e del suo fratello già morto. Allora il professor Dettori, esecutore testamentario, che vista la rinuncia e cominciavano a passare già dieci anni senza che fosse attuata la volontà, rispettata la volontà di Esperso, prese contatti con l'Impis e intanto acquistò questo terreno dietro qua in via Rizzeddu, che allora si chiamava anche Carmine di Vora e per acquistare questo aveva venduto Badde Petrosu e Taniga, proprietà degli Esperso e si era messo in contatto con l'Impis, allora Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza perché allora l'Impis costruiva le case per i poveri tubercolosi, come diceva lui, di tutta Italia. E così nacque qua, rinunciò l'ospedale ad andare dal notaio, l'ospedale a sua volta, una volta rinunciato il professor Dettori invece prese in mano la situazione e nel 1930 lui offrì all'Impis gratuitamente questo terreno che qui tra via Livorno e via Rizzeddu, via Fassati, offrì gratuitamente il terreno all'Impis che accettò con il nato notarile, purché appunto costruisse un sanatorio. Il sanatorio nell'arco di un anno fu costruito e nacque qua, durò sino al 1956 dove poi fu trasferito come costruzioni al suo Alconti, dove Sassari conosce più il Conti ovviamente come sanatorio che Rizzeddu. Però nacque qua grazie alla bontà d'animo degli Esperso. Questi ruderi, abbandonati a se stessi in mezzo al verde, danno la tristezza al cuore perché per i sassaresi lo sanatorio era un luogo emblematico per i sassaresi, era un punto di riferimento nella topografia della città. Lo sanatorio Gonti, lo sanatorio era povero di mezzi ma ricco di umanità, lo ricordiamo tutti con particolare affetto ed era anche il simbolo della storia umana di Sassari perché nel sanatorio avvenivano tante vicende, sono accadute, se potessero parlare questi ruderi, questi muri, quante storie, quanti ragazzi, quante ragazze, quante famiglie, quante situazioni, con la differenza che a differenza dell'assistenza di oggi, anche se era povero di mezzi allora, c'era una grande dimensione umana e anche un nutrimento abbastanza ricco perché le feste non mancava la ragosta, non mancava l'agnello, cioè l'impis teneva i suoi ricoverati, i suoi assistiti veramente come un albergo di lusso con camerieri, cuocchi, lavanderie, bar, cinema, era veramente un posto dove la gente veniva trattata molto molto bene. Qui siamo sempre nell'ospedale sanatorio alle Conti, qui siamo nel reparto donne, ovviamente il reparto le corsie sono dentro ma fuori c'è, anche se vuota, ci sono le famose verande, insomma anche decantate da satan in un libro famoso, la veranda. Qui dalle nove a mezzogiorno e dalle quattro alle sei di pomeriggio tutti i malati, donne e uomini ovviamente, erano in veranda. Quando c'era qualche bandina piegata purtroppo stava a significare che qualcuno se n'è andata a miglior vita, insomma. E qui c'è la capelletta perché la sua frumenza, così chiamata, che dirigeva questo reparto donne come caposala, teneva molto ovviamente alla religiosità del reparto. Qui si può notare abbandonato da 50 anni quasi, anche un piccolo preseppe, la statuetta della Madonna con una corona lasciata, con un rosario lasciato da qualche malata. E sto arrivando qua dalla vecchia rotonda dove dividevano, dove divideva il sanatorio tra reparto donne, cinema e cappella, invece il reparto uomini e cucine e magazzini. Come vedete tutto coperto, anche se sta accadendo un po' tutto, ma l'impis aveva provveduto a fare della sorta dei portici di comunicazione tra reparti e servizi vari. Qui c'è il reparto uomini a sinistra e sulla destra c'è il refettorio e tutti gli ammalati uomini mangiavano qui. Venivano serviti a tavola con delle piattanze veramente che farebbero invidia ai migliori ristoranti del giorno. Qui sulla mia destra c'era la chiesa, un'ampia chiesa dove veniva festeggiata la Madonna e veniva anche il Vescovo per celebrare la messa. Mentre sulla sinistra, per chi mi guarda, c'era il locale del cinema dove venivano anche attivati degli spettacoli. Quando l'Iduvino di Platamona arrivava a qualche complesso, allora per il Prado, Consolini eccetera, il sanatorio pagava qualcosa e faceva lo spettacolo per i malati TBC. Sia il cinema, cioè il film, sia gli spettacoli venivano quasi date gratuitamente a beneficio appunto dei poveri malati tubercolosi di quegli anni i quali rimanevano parecchio tempo ricoverati. In quest'angolo un tempo pieno di luce, siamo qua in semi-oscurità, ci rimanevano soltanto la porta dell'ingresso di chiesa con un vecchio confessionile dove la gente, appunto i malati, venivano qui a confessarsi perché c'era qui fisso il capellano anche proprio dipendente dell'Impis. Antonio Conti, una figura nobile di Sassari che si interessò molto della tubercolosi, era intanto direttore sanitario dell'ospedale e poi era consigliere comunale, si batteva in consiglio comunale con tutte le forze, diciamo così, normali in suo possesso per valorizzare e per interessarsi della tubercolosi imperante che a Sassari ormai non si poteva più nascondere, anche se molti non la nascondevano. Ricorda, ho letto molto su Conti, ricorda un passo veramente commovente che lui rafforzò poi ovviamente per ottenere quello che intendeva volere, che una ragazza incinta che si recò da lui all'ospedale civile di Sassari e l'ospedale aveva l'ordine di non ricoverare tubercolosi. Questa ragazza fu trattenuta quasi miracolosamente perché stava buttandosi dalle scale perché dice sono tubercolosa io, nasce la tubercolosi bambino, porterò tubercolosi in casa, tanto vale che io mi ammazzi. Stiamo portando a termine il percorso storico, geografico della sofferenza su Sassari, dove dopo aver attraversato l'abbandono delle aree di Rizedu con lo scempio dell'ecche caserme del Conti, dove prima c'erano i malati di tubercolosi negli anni 90, oggi siamo qui vicino al cimitero storico di Sassari e ci stiamo avvicinando alle tombe di Conti che ha lasciato tutta la sua scienza per il bene della medicina di Sassari e di Pietro Espres che ha lasciato tutto il suo patrimonio per i poveri tubercolosi di Sassari. Qui c'è una lunga storia che abbiamo raccontato con il compianto giornalista per Luigi di Sì e il magistrato Francesco Pintus che proprio descrive lo scempio, il dissipare, le intrighe, i maneggi che hanno fatto sì che tutto questo patrimonio si dissolvesse nel nulla e qualcuno ovviamente avrà usufruito indebitamente di quanto ha lasciato il povero Espresso. Molti furono beneficiati da lui comunque degli eredi già nel testamento, lascio questo al figlio di, lascio quest'altro alla nipote di, comunque non sarebbe male vedere un pochino in qualche modo di trovare un filone dove ci porta qualcosa ancora non diviso e non lasciato da lui ma in mano a chi non ha diritto di averlo insomma quindi questo ci potrebbe anche vedere. Comunque ha un bene merito della città ecco, le sue nobili intenzioni, cioè è stato condannato all'oblio per troppo tempo, è questo che dico io, non è giusto, non è serio, non è umano. Lui morì il 12 marzo del 1917 e furono esattamente l'avvocato Giuseppe Mancoso e il signor Giuseppe Mundola che si recarono presso il comune di Sastri dove allora era eletto dal segretario comunale Cavaliere Pili. Il funerale si fu eseguito il giorno successivo, diciamo così, ben descritto dalla Nuova Sardegna del tempo e comunque qualche traccia è rimasta anche negli scritti di altre persone, per esempio che lo portarono qua alla chiesa di San Paolo e la barra era seguita da studenti dell'università con la bandiera. Seguivano anche i professori Falchi, Pizzolo, Mameli, Borgata, Pizzorno e Mocci, il segretario del tempo Cavaliere Pinaferrà, il precedente dell'ospedale Cavaliere Susarello, il direttore Professor Conti, il primario Professor Dettori e il sindaco Cavaliere Lavagna che il giorno successivo appunto riunì il consiglio comunale per celebrare ufficialmente e degnamente la scomparsa di un grande uomo e un benefattore di Sassari. Il testamento non è stato rispettato, anzi è stato, se posso dirle questo, è stato dissipato il testamento. C'era un pianoforte nel testamento, chi vuole leggere sempre, come ho detto poco fa, nel testamento può leggere, c'era un pianoforte destinato ai poveri malati di Rizedu perché la sera qualcuno o sano che andasse lì a suonare o qualche malato che comunque sapesse suonare il pianoforte alleviasse un po' la serata ai poveri malati tubercolosi con la musica del pianoforte, non si sa che fine ha fatto il pianoforte, quindi i gioielli della povera Teresina Figari, morta appunto come dicevamo nel 1940, il 10 luglio 1940, direi un mese dopo l'annuncio della guerra mondiale dal palazzo di Piazza Venezia il 10 giugno, questo è il 10 luglio, un mese dopo questa moriva lì senza vestaggia e i suoi gioielli dove sono tutti elencati pignonesicamente da parte di Esperson, tutti i suoi gioielli furono in una delibera, furono messi in vendita, non si sa che fine abbiano fatto, questo non voglio accusare nessuno, però voglio dire non si sa che fine abbiano fatto, perché l'ospedale aveva dei debiti sulle derrate alimentari e quindi aveva in qualche modo recuperare i soldi e comprare le patate in sostanza, cosa che lascia un po' di dubbi, ma comunque o che non l'abbiano fatto o che l'abbiano fatto, comunque è sempre una cosa molto brutta quella di non aver rispettato un testamento e dei gioielli che appartenevano a una donna così, comunque a distanza di anni, vogliamo sassari, amministrazione, cittadini, intellettuali, beneficiati, guariti dalla TBC, vogliamo in qualche modo onorare la figura di Esperson portandolo il fiore e pulendolo un po' la tomba. Grazie a tutti. Grazie a tutti.